Dopo la firma del preliminare, il Potenza risorge dalle proprie ceneri e centra la prima vittoria al Viviani di questa stagione, abbattendo il rimonte ai molossi della Nocerina per 2-1. Dopo il minuto di raccoglimento e ricordo dello storico capitano della promozione in Serie B del Potenza, Sergio Coiattini, le formazioni si riversano in campo per le prime fasi di studio. L'inerza del match viene smorsata all'undicesimo, quando i padroni di casa si rendono pericolosi da corner con una girata di disomma facilmente controllata da Somma Riva. Al quattordicesimo ci prova Pepe dal vertice, ma la sua conclusione è potente ma centrale. Gli ospiti provano a replicare tre minuti più tardi su calcio piazzato, ma Liperta spara alto da buona posizione. Al diciannovesimo calcio di rigore per la Nocerina per l'intervento scomposto di Forgione su Siclari. Sul dischetto si presenta il difensore, specialista Cacace, che incrocia il penalty. Napoli sfiora ma non respinge per il vantaggio dei rossoneri. Il potenza prova a reagire al ventitresimo con una punizione di Pepe, che serve al centro per il colpo di testa di Forgione respinto da Somma Riva. Sulla ribattuta si fionda Todino, che alla Mertens prova a beffare con un sontuoso lob la difesa Molossa, che sventa sulla linea con Cacace, ma nella circostanza Manetta impatta violentamente contro il legno, costringendo Biagioni a sostituirlo con Guarino. Realzatosi fortunatamente sulle proprie gambe, Manetta viene trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Dopo quattro minuti di stop si riprende al ventisettesimo e tre giri di lancette più tardi la nocerina sfiora il raddoppio. De Iulis taglia in area e serve a rimorchio Siclari, che da solo davanti a Napoli perde il tempo di battuta, permettendo a Guarino di chiudere in estirada. Al quarantesimo ancora uno scatenato Siclari scappa via presentandosi di fronte a Napoli, ma l'ex Taranto ritarda la conclusione con il solito Guarino, provvidenziale nell'azione di disturbo. Nell'ampio recupero concesso dal direttore di gara Siclari sciupa al quarantanovesimo anche la terza chance di giornata, ancora su un ottimo assist di De Iulis, ma questa volta è abile Napoli a respingere con i piedi. Nella ripresa il leone rampante si desta e si riversa in campo con la dovuta cattiveria agonistica. I segnali di ripresa arrivano già al primo minuto con la conclusione di media vuelta di Guaita, che termina a lato e col pericoloso fendente sul corner al secondo minuto, allontanato dalla difesa campana. All'undicesimo il rosso-blu spingono e si prendono il fondo con Guaita che illumina la strada per Pepe, che impatta però sul muro rosso-nero. Al tredicesimo ancora un indemoniato Guaita sfonda sulla destra e sforna un cioccolatino per i compagni, che però arrivano in ritardo all'appuntamento con il gol. Cinque minuti più tardi ci prova Todino in acrobazia su un campanile, ma la sua rovesciata alla calciatori panini non trova lo specchio, ma al ventiquattresimo applausi a scena aperta per Guaita che trova il pari con un cost-to-cost da urlo. Pepe serve in profondità l'argentino che con un tocco sublime si libera con un sombrero di un avversario, entra in area di rigore e con una finta manda al bar anche Cuomo per infilare poi sotto le gambe Sommariva per una rete da stropicciarsi gli occhi. Al ventinovesimo il potenza ribalta il risultato con Pepe che sfoggia la specialità della casa, la velenosa traiettoria balistica su calcio piazzato, che trova una deviazione degli ospiti insaccandosi in fondo alla rete per la remuntada rosso-blu. La reazione della Nocerina è tutta condensata in cinque minuti, prima al trentacinquesimo con un tiro impreciso di Casielo dalla distanza, poi al quarantesimo con il diagonale mancino del neoentrato Girardi che chiama la deviazione in tuffo Napoli. Nel finale spaccia l'ultima occasione per il rosso-blu con Esposito che al quarantatresimo dal limite lascia sul posto l'avversario e scaglia la folgore mancina disinnescata dall'intervento di Sommariva. Poi non accade più nulla col potenza che centra tre punti fondamentali in ottica salvezza, stroncando le ambizioni della Nocerina dopo il successo del leone rosso-blu sul molosso-rosso-nero. I tifosi del potenza attendono solo l'ultimo atto, la tanto attesa firma dal notaio.